Punta. Se i 5 Stelle sono un po' ballerini, problema loro, non so... Signora, abbia pazienza, porti pazienza. Ho capito, sono partito stamattina presto da Catania e vado a Roma e mi chiamano, vengo per lei. Se lei ha una voce grande viene su e lo fa lei l'intervento e io vengo giù ad ascoltare. Però mi chiedo solo questa cortesia. La vedo bene come Presidente della Camera la prossima volta al posto della Boldrini. Con tutto rispetto per la signora che è molto meglio della Boldrini.